Ok, ci voleva questa tregua, adesso però chiedo di tornare ad assumere un atteggiamento quasi vicino al sacro, perché tocca a Fabio Salviato, al quale dobbiamo essere grati, per chi non lo conosce, perché Fabio Salviato è stato il fondatore della banca etica e l'importatore, nella sua storia, nella sua biografia, adesso svelo alcune piccole, del primo caffè del commercio eco e solidale, lo vedete presente il caffè Uciri, non è che sta facendo pubblicità, però insomma è storia, non è pubblicità, quindi lui è stato l'assaggiatore del caffè, che ha dato proprio della miscela giusta, poi se vuoi raccontare, ma purtroppo non c'è molto tempo, dobbiamo cercare di stare compressi, però veramente Fabio ha avuto un ruolo molto importante, ad anticipare i tempi, a vedere che cosa poteva o stava per accadere in Italia, che poi si è realizzato. E allora abbiamo chiesto a lui, adesso che è diventato presidente di FEBEA, Federation of Ethics and Alternative Banks, quindi sono le varie banche etiche in Europa, che sono federate, di cui Fabio è presidente, quindi ha uno sguardo, un altro punto di vista rispetto ai lavori di oggi, che noi nel Comitato Scientifico abbiamo considerato molto importante, per cui ti ringraziamo Fabio e buon ascolto a tutti. Grazie, grazie Dario. Beh, inizio subito dicendo che mi iscrivo anch'io al gruppo degli scalatori, assolutamente incordata, e credo che sia veramente un magnifico esempio, e anche perché probabilmente la sfida che anche questa mattina un po' si intravede, o il tentativo di ricerca, il percorso, va fatto tutti assieme. Uno dei nostri slogan felici, che hanno poi condotto alla Costituzione di Banca Etica, è l'interesse più alto è quello di tutti. Io spesso me lo ricordo, è quello di tutti, non può essere quello di uno a scapito di altri. E quindi io, la relazione di questa mattina, parterò, l'appiglio, la sfida tra l'altro è molto interessante, quindi non si sa questa squadra di scalatori, quale tipo di montagna dovrà scalare. Sicuramente è una montagna molto impegnativa. Aspetta Fabio un secondo, volevo fare un check audio. Si sente bene oppure state tirando le orecchie? Si sente bene Fabio? Sì? Ok, grazie, scusa. Sì, è un po' basso, ma non so, ormai. Io non mi sento tanto, comunque vabbè, insomma, se sentono. E quindi, diciamo, l'appiglio di carattere economico, poi arriviamo anche alle intersezioni, alle collaborazioni, che ci sono anche con le interessanti relazioni questa mattina, parte da un'analisi economica, un po', due, tre rapide considerazioni, se volete, l'attrezzatura che ci siamo portati, per poi andare ad una proposta. In questa fase, in questa fase comunque generale, in cui noi ci troviamo, noi società, noi mondo, noi globo, che definiamo un po' di transizione. Siamo in un periodo di transizione, che sia economica, che sia sociale, che sia culturale, di crisi, tra l'altro, che si sono intersecate contestualmente e contemporaneamente, rispetto alle quali, per uscire da questa situazione di crisi, tutti insieme, quindi ritorno al concetto di tutti insieme, dobbiamo trovare delle soluzioni, delle soluzioni che siano innovative, che siano nuove, per certi versi originali, ok? E quindi qui l'utilizzo delle capacità, l'utilizzo del recupero della relazione nelle cose, nelle pratiche da fare diventa fondamentale, e l'utilizzo anche dello stare insieme, del recupero della coesione. Perché questo? Perché noi siamo partiti negli ultimi 200 anni su un concetto fondamentale, e ci siamo formati, abbiamo vissuto parte di noi, parte significativa della loro vita, sul concetto economico della massimizzazione del profitto, quindi dell'imprenditore che doveva massimizzare il profitto. Questa massimizzazione del profitto è andata anche a scapito di valori, qual è la pace, la solidarietà, e anche la coesione, no? Il processo di disgregazioni dalle nostre comunità, partire dal concetto della famiglia, fino al concetto di quartiere, eccetera, eccetera, è un sintomo evidente. E poi sul fatto che questo pensiero economico ha individuato nel cosiddetto PIL, prodotto interno lordo, un concetto di benessere, no? Quasi che più una persona riesce a circondarsi di prodotti e servizi, più è felice. In contesto di felicità, il concetto di benessere, di stare bene, viene ancora oggi, purtroppo nel pensiero mainstreaming dominante, è quello del prodotto interno lordo, chi ha più soldi, mentre molto spesso, lo sappiamo meglio di noi, se le persone anziane o dei giovani magari hanno bisogno di una parola, di una relazione, di un affetto, ecco, di un'amicizia, questi non vengono calcolati, questi non sono conteggiati, anzi, il prodotto interno lordo, se succede un terremoto, che non è sicuramente un evento favorevole, questo va ad incrementare il prodotto interno lordo. Fortunatamente, negli ultimi 30 anni, gli economisti, diverse parti del mondo, hanno inserito anche, nelle loro analisi, altri indicatori, all'interno, appunto, di questo concetto di benessere collettivo, quali l'istruzione, la speranza di vita, l'inquinamento ambientale, e quindi c'è uno studio, anche a livello internazionale, rispetto anche a livello comunitario, della comunità europea, si stanno inserendo dei nuovi indicatori di carattere sociale, la speranza di vita. Voi immaginate, nel 2013, nel 2014, per la prima volta, dal dopoguerra, nazioni come il Portogallo e la Grecia, e non è un caso, hanno diminuito la speranza di vita. In Europa stiamo parlando. E quindi anche questo è un indicatore importante. E quindi, continuando questo pensiero, questo tipo di economia, di massimizzare il profitto, di massimizzare gli investimenti, ha comportato anche a situazioni di inquinamento ambientale, nelle nostre città, di problematicità consistenti nelle nostre città. Quindi, il fatto che questo legame natura e relazione umane, che per millenni hanno in qualche maniera tenuto saldo, cominciano in qualche maniera ad avere delle problematicità, fino ad arrivare quasi, fino ad arrivare quasi ad un punto di rottura, attenzione, perché siamo vicini su alcuni indicatori, molti indicatori, appunto di inquinamento ambientale, di carattere non solo sociale e ambientale, sono in rosso. Ecco, se questi indicatori continuano o continueranno per le prossime generazioni, nei prossimi decenni, in questo modo, certo questo non riuscirà a cambiare, ad invertire questa situazione di crisi o di malessere, diciamo, generale, che riguarda al nostro pianeta. Un dato su tutti, il fatto che ci sono due miliardi e mezzo di persone al nostro pianeta che sopravvivono con meno di due dollari al giorno, dato la settimana scorsa per quanto riguarda l'Italia, le dieci persone più ricche in Italia hanno un patrimonio equivalente a 18 milioni di italiani, 18 milioni più poveri hanno un patrimonio che equivale a dieci persone e badate bene che questo trend continua, cioè quindi dove andremo a finire e quindi come potremo cambiare questa situazione e qui sta un po', faccio un'ultima considerazione sul concetto di un'economia che noi abbiamo definito etica o socialmente responsabile, l'inserimento della responsabilità di criteri di responsabilità sociale nel nostro agire quotidiano quindi non solo nelle imprese ma anche nelle comunità nelle collettività ripeto ancora sul concetto di coesione ma dal punto di vista economico assistiamo e stiamo assistendo al fatto che l'economia da bianca sta diventando grigia assume in certi aspetti la colorazione quasi del nero giusto l'anno scorso la comunità europea per incrementare sempre il prodotto interno lordo ha ammesso diciamo il fatturato relativo alla droga e alla prostituzione in Italia nel 2014 il nostro PIL è stato aumentato i 60 miliardi non è passato molto come informazione come fosse un incremento del benedice quindi il rapporto con il debito con il nostro debito è leggermente diminuito ma per non parlare del fatto che la crisi esplosa nel 2008 qui faccio solo veramente un passaggio di 10 secondi i cosiddetti derivati diciamo prodotti spazzatura hanno un valore complessivo che è 10 volte il PIL mondiale capite 10 volte il PIL mondiale e le prime 20 banche qui è una fonte del solo 24 ore del mondo lasciamo fuori le prime due italiane così restiamo fuori hanno nei loro portafogli dichiarato quindi nei loro portafogli titoli tossici che hanno un valore doppio rispetto al loro patrimonio sapete cosa significa questo dal punto di vista tecnico che sono tecnicamente fallite possono restare in piedi solamente perché qui è facile il cambiamento delle regole un'altra questione l'eticità nel cambiamento delle regole possono mantenere questo valore al valore di acquisto hanno comperato questi titoli a 90 valgono 10 facciamo possono iscriverli mantenuti a bilancio a 90 quindi voi capite la fragilità all'interno del quale noi ci troviamo il nostro sistema economico che è sostanzialmente un infarto che ruolo ha una banca ruolo di ricevere del denaro della raccolta dai risparmiatori o dagli investitori per darlo a chi ne ha bisogno alle famiglie agli imprenditori quindi il cuore che pompa riceve ed ha ma se a un certo punto il sistema finanziario non lo fa perché investe questi denari in attività di carattere finanziario e speculativo l'economia è reale come sta succedendo in questo periodo ne risente ma io sono qui oggi per darvi delle buone notizie quindi se no ero già cominciato esatto non è questo quello che volevo dire ma è purtroppo l'eredità l'attrezzatura una parte di attrezzatura che la scartiamo per la scalata e ci prendiamo l'attrezzatura nuova ok l'attrezzatura che ci stiamo costruiti un po' negli ultimi vent'anni e anche voi che vi state costruendo credo sia interessante quindi passare dal modello della massimizzazione del profitto e trovare un nuovo motore che genera benessere generatore di nuovo benessere per tutti ora io vi indico sostanzialmente in questa fase di transizione tre o quattro pilastri che noi e vi faccio velocemente degli esempi anche concreti sui nuovi pilastri di questa nuova economia in transizione dove l'aspetto relazionale e l'aspetto diciamo della coesione sociale sono al primo posto l'aspetto educativo l'aspetto formativo sono fondamentali bisogna recuperare ristrutturare rigenerare ricreare ritrovarsi no? dopo probabilmente una sbornia collettiva dove si immaginava di essere quasi appunto onnipotenti e invece in realtà ci scopriamo re nudo e quindi dobbiamo trovare delle alternative per pianificare questa nuova economia ci vorrà molta pazienza e determinazione non è una cosa di oggi e domani e questa è un'altra caratteristica calmi tranquilli perché se le analisi sono queste e vi potrei dare anche molti altri dati molti li sapete anche voi ok però per iniziare io lo chiamo un lento ma graduale e costante processo di cambiamento dove una comunità cresce e sta già crescendo cioè oggi milioni di persone ci sono già in questa nuova economia di transizione questa è la notizia nuova noi individuiamo per ora quattro settori primari e poi si va per la questione dell'energia ci fanno le guerre per la questione dell'energia per noi l'energia per noi partendo da finanza etica ma investendo l'economia civile l'economia sociale l'economia solidale poi in Europa siamo molto bravi a non trovare una definizione comuna comunque l'economia gli italiani il professor Zamagni Bruni Becchetti sono per l'economia civile comunque l'energia rinnovabile e quindi eolico solare fotovoltaico questo questo va a sostituire l'energia del fossile per molte ragioni la questione di carattere ambientale qui faccio un solo esempio fatto ieri a tavola con gli speaker un esempio ma solo per capire noi abbiamo un centinaio parliamo del Mediterraneo di milioni di persone non 10.000 o 20.000 sono 100 milioni di persone nella Nord Africa che premono per venire in Europa nei prossimi 10 anni nei prossimi 15 anni 20 anni è così allora come si come si comincia a riequilibrare certo non abbiamo la bacchetta magica lentamente ma facendo solo un esempio stimolante per capire se solo il 2% del deserto del Sahara quindi prendiamo Tunisia e Marocco per essere più tranquilli mettessimo uno dei pannelli fotovoltaici questo produrrebbero elettricità pulita e quindi meno CO2 nell'atmosfera per tutta l'Europa che necessita tutta l'Europa e allora dopo la seconda guerra mondiale non abbiamo costituito la comunità vi ricordate economica del carbone e dell'acciaio non era un patto di carattere economico e perché non possiamo immaginare un patto di carattere economico con i nostri delimpetali del Nord Africa qui faccio un solo esempio dove riceviamo energia pulita dall'altra parte diamo assistenza tecnica per aiutare comunità che si trovano in difficoltà pianificato ci vogliono 30-40 anni quello che ci vuole e quindi tutto quello educazione formazione assistenza eccetera eppure va bene purtroppo la politica non è su queste ancora posizioni ma però vi faccio un solo esempio e comunque l'Italia negli ultimi 5 anni sulle rinnovabili è arrivata e sta arrivando ai primi posti è incredibile i cittadini da soli stanno rispondendo sui loro tetti sui loro tetti stanno mettendo pannelli fotovoltaici eolico solare eccetera eccetera e quindi la questione energetica comunque è una questione centrale siamo in una fase di transizione e passeremo entro la fine di questo secolo a un altro tipo di energia cioè o che la vogliamo o che non la vogliamo di petrolio ce ne sarà fino al 2050 ok tutti gli studi i settori ce l'hanno dato e quindi oggi oggi se non ieri dobbiamo già pianificare un nuovo tipo di energia noi diciamo un'energia pulita fatta anche in maniera domestica io da consumatore era interessante una definizione di Zanotelli che è la vostra terra e qui diceva siamo dei tubi digerenti da consumatori cominciamo a diventare anche un po' di produttori per quello che possiamo produciamo energia col nostro tetto coltiviamo qualcos'altro terra anche questa è una cosa importante agricoltura sì ma agricoltura biologica siamo i primi produttori in Europa con un milione e duecentomila ettari di terreno ma abbiamo tre milioni e mezzo calcolato certificato di terreno in Italia che è abbandonato quindi immaginate voi una grande rivoluzione verde biologica è una domanda che è crescente dal 15-20% dei cittadini che si rendono per primi responsabili e disponibili interessati più a un'agricoltura biologica che a un'agricoltura di carattere tradizionale e immaginate quindi giovani o vecchie generazioni insieme che ritornano un po' alla terra e anche naturalmente a fare dei prodotti che siano genuini e l'Italia è un paese che si presta benissimo a questo tipo di iniziativa un altro punto importante anche che noi abbiamo individuato per capire verso quale nuova economia la casa bioedilizia allora pochi forse sanno dico due notizie dal 2018 comunque a livello comunitario se si vuole costruire una nuova casa posto che in Italia abbiamo costruito dappertutto ma comunque se si vuole costruire una nuova casa la si deve costruire con i criteri della comunità europea i tedeschi consumano mentre la media la media in Italia una famiglia diciamo italiana consuma per il riscaldamento 2000 euro all'anno una famiglia tedesca normalmente fa più freddo ci sarà il cambiamento climatico non lo so e consuma 500 cioè 1500 in meno perché i criteri di costruzione e di isolamento sono diversi quindi ci sono gli imprenditori tedeschi e austriaci pronti ad arrivare in Italia quando noi abbiamo un settore fermo e questo è il 2018 ma l'altro dato fondamentale è che abbiamo 20 milioni di immobili in Italia che sono dei collaborodi completamente da ristrutturare nei prossimi 10-15 anni quindi veramente uno sviluppo o comunque o in alcuni casi scusate da abbattere perché bisognerebbe anche fare fare questo e quindi noi siamo per sostenere la biodilizia le social ausi anche il concetto di social ausi qui non c'è tempo ma sarebbe molto importante recuperare quel concetto di comunità siamo tra le popolazioni più diventeremo sempre più più anziani a livello mondiale quindi una politica rivolta agli anziani che non restino da soli ma che possono stare insieme mantenendo la loro privacy è importante noi abbiamo sviluppato come finanza etica appunto con un ufficio dedicato finanza di progetto 5-6 progettualità e poi va bene l'altro che è caratteristico per l'Italia del turismo responsabile siamo una nazione dove sul turismo responsabile potremmo far vivere questo perché abbiamo la generazione di giovani considerati fino a 29 anni la comunità europea se li considera fino a 26 noi abbiamo chiesto una prova fino a 29 non capisco perché per l'Unione Europea un giovane fino a 26 noi i nostri giovani possono e va bene e per l'agricoltura sono giovani fino a 40 anni queste classifiche chiediamo anche sull'età e quindi l'inserimento all'interno della società è sempre più ritardato ma qui andiamo a aprire questo per farvi capire ma ecco con una pennellata cosa si potrebbe fare io un elenco anche di altre decine o più di progettualità significative ce ne avrei no insieme andare a disegnare a costruire e il primo passo questo la finanza etica proprio quello io sono contento di essere qui questa mattina proprio anche l'aspetto relazionale l'aspetto culturale l'aspetto formativo guardate senza di questo noi investiamo investiamo spendiamo 5 volte di più sul pagamento del debito lo Stato italiano rispetto all'istruzione cioè quindi è qualcosa di scandaloso quindi da questo punto di vista si devono trovare ma ecco qui entrano le buone pratiche ve ne dico due sulle principali le buone pratiche che stanno intercettando al mondo della finanza anche le esigenze di carattere sociale cioè cosa vogliamo dimostrare vogliamo dimostrare che utilizzando le buone pratiche in sociale riusciamo a fare anche un giusto profitto ok e che questo giusto profitto va reinvestito in attività di carattere sociale guardate allora una che viene tra l'altro dall'Inghilterra come esempio sono i social impact bond i bond obbligazioni ad impatto sociale obbligazioni ad impatto sociale e l'idea se volete è interessante cioè l'amministratore pubblico che deve pagare che deve pagare nei casi specifici che sono stati in qualche maniera presi in considerazione a Peterburga c'è stato un esempio sulla i carcerati che uscivano dal carcere se delle associazioni si prendevano cura di questi carcerati la recidiva il rientro risultava inferiore ok quindi degli imprenditori erano disponibili ad investire su questi bond a condizione che la percentuale di recidiva si abbassasse e quindi l'amministrazione pubblica progressivamente pagava meno perché da 100 carcerati se ne trovava 50 ok elementare quindi questo prodotto che ve l'ho spiegato così velocemente è partito dall'Inghilterra sta approdando in tutta Europa stiamo cercando di vedere la via italiana perché come ho immaginato discutere con gli amministratori pubblici italiani non è semplice non perché non siano intelligenti ma perché la visione di medio e lungo termine credo che sia un aspetto che deve essere preso in considerazione l'altro esempio più articolato ma interessante che potrebbe essere replicabile in ogni città d'Italia quindi sarebbe un bel movimento in ogni città d'Italia sono le fondazioni di comunità di carattere innovativo voi sapete che la legge prevede questo strumento la fondazione di comunità opera a livello locale o al massimo provinciale quindi a Trento non so se esista non credo esista una fondazione di comunità ma l'esempio principale che noi abbiamo è quello di Messina in Sicilia dove 30 cooperative sociali hanno dato vita alla fondazione di comunità e in maniera interessante con purtroppo esistono ancora l'ospedale psichiatrico criminale di Barcellona di Pozza di Gozzo in Sicilia con il direttore hanno individuato una sessantina di persone che dovevano uscire e se reinserite all'interno della società attraverso con un lavoro il Ministero di Grazia e Giustizia attraverso la Cassa per le Ammende dà un contributo di 70.000 euro perché queste persone costano comunque al Ministero 70.000 euro all'anno è evidente che è un vantaggio per il Ministero perché lo dà una tantum e poi non lo dà più dall'altra parte quindi la società civile queste fondazioni di comunità si prendono in carico diciamo queste in questo caso 60 persone allora fatti i conti 7 per 6 42 4 milioni e 2 quindi 4 milioni e 2 la fondazione per il sud quindi le fondazioni di origine bancarie che sono obbligate per legge a dare a raddoppiare a raddoppiato sono diventati 8 milioni e 4 quindi comuni province regioni siamo arrivati a 10 milioni di patrimonio cosa è stato fatto con questi 10 milioni e un finanziamento da parte di banca etica di altri 5 milioni 15 milioni sono stati fatti su terreni confiscati dalla mafia qui poi è interessante 4 impianti di fotovoltaici ad umbreggiamento dove sotto si faceva agricoltura biologica bene il risultato finale è che sono stati impiegati 30 di queste 60 persone e si è prodotto un utile netto di 2 milioni di euro senza nessuna convenzione con il pubblico ecco che il privato sociale ok da solo senza dipendere dal pubblico per carità non lo sto dicendo ma in questa situazione di tagli si trova addirittura con delle risorse per fare attività di carattere sociale per reinvestirle può essere in formazione ma in altre imprese è così allora questo è il nuovo che avanza la capacità se volete anche la determinazione questo che ho raccontato ci ho messo 10 anni per farlo cioè non è che sia una cosa semplice però se ad un certo punto una io la chiamo una generazione una classe trasversale giovani o vecchi che se non c'entrano entra in questa scalata ok in questa dimensione in questa dinamica riesce a creare dei circuiti virtuosi spezzando circuiti viziosi e aprendo circuiti virtuosi dove anche l'utilizzo corretto e adeguato del denaro ci porta a un benessere collettivo queste sono le belle storie della nostra Italia o anche della nostra Europa io sono anche Presidente della Federazione Europea devo dire che anche negli altri Stati Europei si stanno sviluppando ma ci stanno guardando un po' con invidia perché insomma a meno che ci invidiano un po' l'intelligente italiana non è l'intelligenza l'intuito l'intuizione italiana la creatività italiana a saper costruire strutture anche consolidate ecco quindi questo è per per darvi solo l'esempio del nuovo e delle possibilità di collaborazione che ci possono essere anche con la vostra vacuntà con le vostre iniziative e concludo con appunto una considerazione molto semplice non è possibile non è possibile immaginare uno sviluppo infinito perché ci sono ancora purtroppo resistenze significative in un mondo finito visto dallo spazio la nostra è una palla la nostra palla è finita a materie prime finite un ultimissimo dato si sta pianificando in Cina diciamo uno sviluppo che potrebbe essere quasi all'occidentale con 250 milioni di famiglie immaginate l'economista tedesco si è preso la briga di fare il conto se 250 milioni di famiglie cinesi se volessero infrastrutture autostradali un'auto un elettrodomestico ok ci vorrebbero due o tre terre per avere le materie prime quindi non è fattibile non è possibile uno sviluppo di questo tipo cioè l'impatto quindi uno sviluppo sostenibile è fondamentale e necessario concludo veramente dicendovi non per far prendere quindi queste queste che vi ho detto sono belle iniziative ed è un mondo in cammino che fortunatamente in tutta Europa in tutto il mondo decine o qualche qualche milione di persone ci sono già su questa è troppo poco bisogna fare di più ma ci abbiamo poco non ci abbiamo molto tempo ecco dall'altra parte quindi il fatto che anche incontri di questo tipo permettano di in modo trasversale insieme di poterci capire ecco di poter creare ecco in rete questa organizzazione diventa fondamentale è anche un motivo che mi ha spinto a venire qui incuriosito perché non dobbiamo stare nei nostri mondi ma dobbiamo contagiarsi uno con l'altro ecco perché l'interesse più alto è quello di tutti grazie 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 l'interesse più alto è quello di tutti grazie a Fabio per questo punto di vista che ci aiuta a guardare oltre e a tentare queste trasversalità tocca in chiusura Alberto Zucconi che molti di voi hanno già conosciuto lo scorso anno e che rappresenta l'istituto dell'approccio centrato sulla persona è fondatore e presidente dell'istituto e direttore del World University Consortium oltre che membro dell'Accademia Mondiale delle Arti e delle Scienze e mi fermo qui perché le onorificenze sono tante di più grazie Alberto per questa conclusione per poi andiamo un po' eventualmente appunto a fare qualche domanda e risposta con la moderazione di Antonio Samà via Buongiorno a tutti grazie Dario dell'invito che mi ha permesso di ascoltare questi interventi che ho molto gradito e che mi sono sentito anche meglio di come stavo ieri per dire la verità più ottimista già l'ultimo intervento che ho molto apprezzato dà proprio un esempio chiaro di best practice che l'epistemologia della pratica è possibile che abbiamo già nuovi paradigmi perché quelli vecchi non funzionano e che si tratta soltanto non di lamentarsi perché niente funziona in Italia o nel mondo ma prendersi il potere nelle mani e dare alternative a quello che è preoccupante per tutti almeno per la maggioranza di tutti noi allora uno dei nostri membri dell'Accademia Mondiale dell'Arte e della Scienza ha il premio Nobel Paul Krusen che è famoso forse per avere coniato il concetto di antropocene predetto quello che oggi sappiamo tutti climate warming il riscaldamento climatico e ha dimostrato scientificamente prima molti lo volevano in qualche maniera sconfermare adesso è impossibile che le attività umane sono la principale causa dell'impatto sulle varie forme della vita del nostro pianeta e possiamo vedere la bottiglia mezza piena e mezza vuota cioè in un certo momento parlavamo ieri sera a tavola si diceva qualcuno aveva detto che eravamo ai tempi della seconda guerra mondiale a cinque minuti alla mezzanotte per avere una strada di non ritorno di quello che gli umani fanno e combinano a se stessi e al pianeta adesso siamo a qualche secondo della mezzanotte però il fatto che noi siamo responsabili per tutto quello che di distruttivo sta avvenendo la maggior parte ci dice anche che se siamo noi responsabili e allora possiamo anche vederci come abili di risponso cambiare narrativa dall'autodistruzione alla ricostruzione sostenibile e questo esempio della banca etica che come cittadino italiano ti ringrazio di cuore di gente che invece di arricchirsi ha capito tutto che la vera ricchezza che è il migliore interesse è l'interesse di tutti ma questo è scientifico l'interesse mio è vivere in una società ricca di cosa di quello che un mammifero sociale ha bisogno relazioni sostenibili avere la capacità di amare e di essere amato di soddisfare i miei bisogni che sono soprattutto bisogni relazionali oltre che di sopravvivenza e che quando ho soddisfatto la sopravvivenza sono tutti bisogni che non sono inquinanti anzi sono risanatori bene vado veloce dicendo l'ovvio ormai dobbiamo ah io l'ho fatto il rispetto con le due lingue che si parlano a questa conferenza il giallo è in italiano e il bianco è in inglese e quindi abbiamo bisogno di accettare le sfide inutile negarle inutile nascondersi e vedere come rispondere efficacemente mi hanno chiesto Dario mi ha chiesto di parlare me ne occupo da tanti anni dell'approccio biopsicosociale in termini di protezione e promozione della salute protezione del capitale umano ho scelto oggi qui di sottolineare l'aspetto della salute e benessere sociale e vedere quali sono i nemici della salute sociale che poi come ben sapete attacca anche la salute e benessere degli individui ho apprezzato moltissimo questa mattina l'intervento in apertura del nostro assessore veramente se tutti gli assessori parlassero così sarebbe una nazione migliore e quindi ringrazio comunque quali sono i numeri parliamo di ricchezza e parliamo anche di entropia di ricchezza di distruzione di ricchezza di benessere di risorse umane e naturale 120 miliardi di euro ed è una ricerca che va per difetto cioè se andassimo a contare veramente anche le bustarelle da 500 euro anche la mancia agli uscieri perché se no non ti danno il modulo purtroppo questa cifra lieviterebbe non so se gli altri sono d'accordo comunque ogni anno in Europa noi sopportiamo un costo per la corruzione in malaffare il favoritismo di 120 miliardi di euro ma 120 miliardi di euro dicano poco perché sono cifre e basta e non fanno capire realmente quale è l'impatto enorme distruttivo terrificante di quello che sono le conseguenze della corruzione della criminalità organizzata del mal governo dello sfruttamento scriteriato e della distruzione continua del capitale umano sociale e naturale ho deciso meglio di tante parole ricordarci l'obvio inquinamento quante forme di inquinamento sono parte di non rispettare le regole che già ci sono abbondamentate lo stesso riscaldamento globale ci stiamo arrostendo dando fuoco alla nostra casa il pianeta e lo facciamo noi principalmente rimanendo come questo povero orso poi senza pianeta guardate queste non sono da film di fantascienza questa è la realtà che costruiamo quotidianamente per decenza avevo assemblato tante altre foto che documentavano quello che succede giornalmente ma l'ho censurate perché erano troppo raccapriccianti per volere del resto ancora mi bomba negli occhi le immagini che ho visto all'estrema volta di quel documentario Gickok nella Lager Nazisti dove un'altra iniziativa di costruzione sociale voleva estirpare dal pianeta giusto tutti quelli che erano ebrei o comunisti o omosessuali o rom gitani insomma è importante certamente per contrastare la corruzione che ci siano le capacità adeguate e le forze adeguate per rintracciarla denunciarla punirla però molto più efficace è quello che abbiamo visto che ci ha detto chi ha creato la banca etica e scommetto io ho avuto solo il piacere ieri sera di conoscere che non eri figlio della più potente ricca famiglia e congrega ma qualcuno ha detto si deve fare mi rimbocco le maniche e lo faccio insieme a persone che credono negli stessi valori o sbaglio ecco questo a me mi eccita positivamente che non siamo perduti c'è gente che unita può fare la forza e il contrasto della corruzione della malattia sociale pervasiva è appunto toccare le persone non solo con le leggi ma proprio nella costruzione sociale della realtà basarsi anche sulle emozioni e basarsi su quello che è la costruzione sociale delle professioni della cittadinanza e qui parlavamo l'ecologia e l'epistemologia della pratica quello che come potenziale possono fare le università ma non solo le università tutti gli istituti educativi per primi la famiglia i media e comunque in ambito in universitaria credo che sarebbe importantissimo dare una bussola una bussola per chiunque è un cittadino e copre il ruolo di scienziato di politico di professionista di educatori voi avete un ruolo molto importante quotidiano di costruzione sociale l'educatore ha un ruolo cruciale e cito due parole del mio maestro car rogers è il fondatore dell'approccio centrato sulla persona che dice in inglese qui alla base di essere uno scienziato o un professionista tutto quello che uno fa è un giudizio e azioni che sono morali etiche e valoriali io ho sviluppato anni fa proprio questa bussola del professionista e sono stato molto interessato che un mese fa mi sono ritrovato al congresso nazionale dei tributaristi italiani non ci avrei mai creduto che mi pagavano per fargli un seminario sulla bussola del tributarista e sono stato molto contento che prendevano molto sul serio il discorso dell'etica della competenza mi servirò uno dei loro per le prossime volte e quindi io credo che il nord magnetico per un professionista che come parlavamo è una persona che professa professa cosa? valori e poi certo sapere saper fare saper essere la soddisfazione di sentire che tutto quello che faccio lo fa intenzionalmente al meglio nell'interesse dell'utente e quindi essere capaci di avere una bussola e navigare senza affondare o rompersi sugli scogli significa avere contatto con la realtà la realtà dell'utenza quindi la cultura dell'utenza e vedere non solo quello che gli manca ma anche i punti di forza e essere ovviamente capace di pronto? certo accetto il dialogo io non ho parcheggiato c'è una targa è una forma di salute sociale anche non parcheggiando ostruendo le uscite mi sa che era una comunicazione diretta bene speriamo bene chi vuol sentire senta ho visto uno uscire quindi forse era la sua madre come dicevo l'epistemologia del parcheggio efficace no 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 è un'altra lecture e comunque a parte gli scherzi dicevo e quindi bisogna avere gli strumenti che sono già stati menzionati e sapere e sapere fare e sapere essere e soprattutto oggi non possiamo usare mezzi conoscenze obsolete ahimè ancora spesso nelle università si danno nozioni non sistemiche e quindi gli strumenti sono un po' obsoleti spuntati e non sono ben collegati con il tutto e quindi uno è super specializzato ottimamente ma non vede quello che sta succedendo nelle altre scienze e i propri vicini e il gioco di squadra diventa molto difficile e quindi siccome l'educazione è una delle cose più significative che noi come umanità nella nostra storia di evoluzione abbiamo sviluppato è quella di raccogliere organizzare e trasmettere le conoscenze e condividerle e teniamo presento che l'educazione veramente ci aiuta ad evolverci come storia della nostra specie e quindi è uno strumento di massima importanza dobbiamo essere attenti che non si inceppi e quindi se vogliamo efficacemente proteggere e promuovere salute e benessere degli individui non solo di quelli che soffrono dobbiamo avere una visione sistemica sociale e pensare ed agire certamente nel quotidiano quindi localmente ma con una capacità di comprensione e di contatto nel contesto perché siamo ormai chiaramente nell'ela della globalizzazione lo siamo sempre stati ma non ce ne accorgevamo tutto è relazione ce l'hanno spiegato sottolineandolo già le scienze esatte alla fine degli anni venti poi negli anni trenta von bertalafi e la biologia rogers ha fatto negli anni quaranta il primo paradigma di psicologia psicoterapia sistemico quindi dobbiamo tenere presente tutte le variabili e certamente quella socioculturale ambientale economica psicologica etica e direi anche spirituale non dico religiosa ma anche non negare che gli esseri umani hanno questi elementi il bianco e l'inglese vado velocissimo parlando dell'ultima cosa che abbiamo fatto ed è la dichiarazione di post Dario mi ha detto che ci saranno delle coppie in italiano e in inglese a chi vorrà erano state messe appena fuori sul tavolino non so se le avete già però sono a disposizione di tutti sia in italiano che in inglese e anche con questo un invito a tutti gli esponenti universitari presenti di meditare leggere vedere qualsiasi università qualsiasi facoltà qualsiasi centro di ricerca universitaria se condivide questo impegno etico è benvenuto insomma il punto è in tutti i corsi universitari di ogni ordine e grado di insegnare quella che è la bussola secondo me per qualsiasi cittadino che diventa grazie all'organizzazione del sistema scolastico capace di diventare un professionista espletare la propria funzione costruttiva nella società quindi insegnare l'etica come si insegna la matematica perché è una misura importantissima che la cui assenza provoca nefasti e quindi l'etica intesa come responsabilità sociale e anche le conseguenze della corruzione la gente pensa ancora oggi in Italia l'abbiamo letta abbiamo sentito anche da persone al governo che non pagare le tasse se le tasse sono un po' troppo alte è anche giustificato ma roba da pazzi non si è capito quello che è la costruzione sociale della realtà e quindi per rovesciare gli eventi come diciamo la crisi del subprime ha fatto vedere quanto devastante può essere chi non capisce la produzione di ricchezza e crede che è un gioco al monopoli e che è soltanto aumentare i numeri a livello finanziario e che quindi crede fervidamente nei titoli spazzatura così junk bond cioè titoli spazzatura anche in nome doveva dare qualche apprezzione e che comunque è contentissimo che c'ha numeri e biglietti dei monopoli virtuali che si accumano nei propri acconti ma nonostante abbia la villa magari sul mare è un mare inquinato può mangiare pesce costosissimo ma è un pesce inquinato può viaggiare ma è a rischio anche la sua vita e quella dei suoi figli e quindi è una vera e propria pazzia da un punto di vista di salute mentale è una negazione della realtà ed è una difesa da quello che realmente stiamo creando se vogliamo portare avanti come la barca etica sì lui l'ha pensata ma se era solo lui se la diceva e se la cantava invece ha trovato tanta gente perché l'unione fa la forza fa la forza e l'hanno capito soltanto la criminalità organizzata o la vogliamo sempre più capire anche noi che l'unione fa la forza ovviamente non abbiamo bisogno di coinvolgere solo le università sarebbe ottimo è ottimo ma ci abbiamo bisogno di coinvolgere tutti gli stakeholders e tutti gli attori sociali per generare una intenzionale e efficace autoconsapevolezza e poi l'autoconsapevolezza è la legge della vita dalla meba alla galassia tutto si auto organizza e perché non dobbiamo anche essere noi un pochino più ottimisti sulle nostre capacità o lamentarsi solo che le cose non vanno bene e continuare a vivere nel nostro particolare dico quindi che per promuovere risposte efficace agli attacchi contro la salute sociale e lo sviluppo sostenibile per disseminare gratuitamente le conoscenze e le buone pratiche di cui abbiamo disperato bisogno è proprio una tecnologia nuova secondo me elettronica no l'esempio quotidiano di ognuno di noi è inutile strillare sempre le cose non vanno bene rimboccarsi le maniche ai nostri allievi ai nostri colleghi ai nostri vicini ai nostri familiari dare l'esempio quotidiano e poi siccome in genere siamo anche persone intelligenti usare la nostra intelligenza per organizzarci efficacemente grazie e in bocca al lupo a tutti noi io devo io ho questo ruolo strano adesso che è quello di coordinare una sessione e io vorrei cominciare dall'espressione di un mio disagio io sono seduto qui ho ascoltato quattro esploratori noi parliamo una delle piste che si potrebbe seguire è quella delle metafore che i i relatori hanno usato sono ricchissime e io non per complicarmi l'esistenza ma poiché sono quattro esploratori ho la sensazione che noi siamo un po' come una caravana cioè un'altra forma di comunità che non ha le bussole non sa è in un posto che non è più familiare e in cui c'è bisogno di trovare direzioni queste si chiamano nel nostro mestiere si chiamano fare conoscenza e c'è un problema non sappiamo chi è detentore chi dove fa conoscenza che ci aiuti ad affrontare questa che non è confusione i relatori hanno parlato di contesti complessi in cui il vecchio o i vecchi strumenti di razionalità non funzionano più e come Sean che ha scritto sull'operatorio riflessivo dice che la pratica è piena di fango ed è sporca non è così perfetta e pulita come la razionalità che si insegna nelle aule ci sono tante cose che emergono e io ho questo il mio disagio adesso ho aggiunto di più del mio il mio disagio è che io mi trovo qui a facilitare una conversazione su temi complicati e difficili tra i relatori che hanno avuto il loro tempo e voi che non avete avuto tempo di interrogarci allora noi abbiamo detto abbiamo stabilito con Dario che ci diamo e vi chiediamo scusa del ritardo ma questo spero che voi ci comprendiate ci diamo mezz'ora di tempo per interagire su questo ci siamo non scappate allora questa interazione noi abbiamo detto i relatori si fanno anche delle domande io ho detto a Dario non gli facciamo fare le domande ai relatori la parola passa a voi passa a voi superò un invito siamo in una posizione di paradosso e di ossimori nessuno di noi qui ha la soluzione quello che possiamo discutere ed è interessante che questa discussione dei limiti della razionalità e della conoscenza e delle fonti di conoscenza si faccia in un'università io l'invito che vi faccio è assumere il ruolo dell'esploratore anche voi e interrogarci dal vostro punto di vista da dove voi create conoscenza e dove voi state costruendo innovazioni che siano sia di pratica che cognitive diciamo nella fisicalità nella praticità e nella anche razionalità per cui l'invito è situatevi dalla vostra esperienza e diteci se quello che vi abbiamo detto ha senso e in che maniera ha senso se avete la domanda specifica per uno dei relatori nominateli altrimenti a round robin fate la domanda e tutti o a turno vi rispondo io sono Thierry Bonfanti sono psicologo e psicoterapeuta e anche mi definirei come un promotore di nuove pratiche sociali ho inventato vent'anni fa a Parigi il caffè di batito sono francese di Parigi vivo in Italia ormai e sto portando avanti ormai dopo una ricercazione di 17 anni una nuova formula di convegni e ti ringrazio molto Antonio per la porta che mi apri e per il fatto che condivido un po' il tuo disagio ho trovato le interventi di questa mattina estremamente interessanti tutti ognuno molto interessanti però hanno suscitato in me oltre che un disagio qualche riflessione e prenderei come spunto diverse cose che sono state dette dalle diverse persone che si sono espresse stamattina cominciando dall'intervento di Violetta Ploteger che ha parlato di interazione abbiamo parlato stamattina di interazione ma non abbiamo veramente interagito se non nella pausa caffè che ci ha permesso a piccoli gruppi di confrontarci e questo mi porta ad un altro quesito che Rogers del resto poneva nel suo libro Freedom to Learn è possibile insegnare e questo mi riporta alla domanda che faceva Silvia Gherardi quando chiedeva cos'è la conoscenza mi chiedo se la conoscenza si basa solo su il fatto di ascoltare o se l'interazione non più fattori di apprendimento ora visto che siamo in un convegno sul training non solo sul training ma anche sul training parliamo e metacomunichiamo siamo in un convegno sul training e il modello che stiamo mettendo in atto è un modello molto tradizionale un modello frontale che secondo me potrebbe essere evolvere essere un po' ammendato e mi sono chiesto ascoltando anche Fabio Fabio Salvato se non siamo vittimi in qualche modo di un paradigma antropologico lui parlava dell'essere produttore anziché consumatori e mi chiedo se non siamo troppo culturalmente conduzionati anche nel campo della conoscenza non solo nel campo del consumo energetico se non siamo vittimi di questo paradigma culturale il cui consumiamo conoscenza anziché produrla e attraverso questa nuova formula di convegno che sto portando avanti voglio promuovere quello che Alberto Giucconi parlava esprimava in termini di educazione universitaria al pensiero critico e cioè la possibilità data ai partecipanti nella formazione anche universitaria anche nei convegni di essere più attivi più interattivi e secondo me sarebbe più interessante non solo per i partecipanti qui ma anche valorizzerebbe gli interventi perché ascoltare tre ore di fila degli interventi non li valorizza perché io dopo un po' mi stanco mi perdo e non penso di essere l'unico quindi questo modello come dire che chiamo dell'altro convegno che è un modello che questa è un'innovazione una pratica che sto mettendo in opera cerca di introdurre nella conduzione dei convegni più partecipazione vi chiedo scuso se il mio intervento è un po' dirompente però io mi auguro che siamo qui per comunicare non solo per avere un discorso come dire politicamente corretto facciamo un giro di due o tre domande Francesco Crisafulli sono un educatore professionale lavoro a Bologna e mi occupo di disabilità e poi ho anche il piacere l'onore la fatica l'onere di fare una piccola attività di formazione all'università di Bologna nel corso di laurea tra l'altro portavo i saluti a tutto il convegno da parte del nostro coordinatore del corso di laurea del presidente io intervenivo perché ero rimasto un po' su un ringraziamento che devo fare a Dario che dov'è? Dario perché nella sua relazione introduttiva lui ha fatto un po' ci ha fatto un po' ci ha illustrato un po' la missione che si è preso addosso e io gli sono molto grato perché invece credo che lui stia con molta pazienza con molta perseveranza e anche con molta competenza stia mettendo in piedi un network italiano e speriamo anche non solo italiano insomma con questo primo con questa prima apertura anche di la presenza di relatori anche di altri stati anche di partecipanti stai un po' come dire assolvendo a questa grande mancanza che c'è in Italia sul tema della ricerca e sul tema di pubblicazioni specifiche sul nostro profilo professionale quindi io personalmente ti sono molto grato e ti faccio una domanda ti chiedo quando riuscirai a realizzare uno dei progetti che stai realizzando e cioè di mettere diciamo ufficialmente online questa ipotesi di rivista che stavi facendo di cui ci hai parlato anche l'anno scorso spazio per un terzo prima di dare la parola ai relatori e alle relatrici buongiorno sono Marina della Rocca io sono dottoranda all'università di Bolzano ho una formazione antropologica quindi non di scienza dell'educazione e di servizio sociale però indagherò la relazione d'aiuto all'interno del lavoro sociale quello che volevo dire è un po' una riflessione che poi porta a una piccola domanda richiesta e ho anche lavorato per 4 anni come operattrice sociale quello che a Bolzano quello che io ho raccolto come impressione mia è stata quella nelle relazioni con molti altri operatori sociali devo dire di un po' di mancanza di capacità di essere cittadini attivi e solidali nell'approccio con cui lavorano con le persone e quindi quello che chiedo se c'è se è pensato dato che io non ho fatto questo tipo di formazione l'idea di una formazione veramente alla cittadinanza attiva ma anche solidale anche magari non solo attraverso il confronto con i fruttori dei servizi come ci è stato spiegato anche questa mattina come metodologia anche di lavoro per la formazione di chi può lavorare sociale ma anche con una cittadinanza che è attiva e che sul territorio agisce come associazioni o altre realtà di questo tipo che possano veramente interagire con chi poi deve comprendere anche la complessità della società in cui viviamo e che è estremamente legata alle problematiche poi individuali usiamo l'ordine delle relazioni per il primo giorno di risposte Silvio vorresti cominciare tu i primi tre perché così facciamo più giri prima cosa nel senso che quando hai posto la domanda chi vuole parlare io ho visto un mare di maglie allora se ci sono altri interventi secondo me ha più valore prendere il suggerimento che diceva Bonfanti e sentire se c'era ancora qualcuno del pubblico che voleva che voleva parlare e poi magari noi che abbiamo avuto tanto tempo all'inizio possiamo averne poco poco alla fine io ho due parole ma proprio due ma lascerei ok Marco Dallari insegno pedagogia in questo dipartimento vorrei dire due cose una rapidissima all'amico Bonfanti io credo che una delle grandi scoperte che in questo periodo di crisi e di passioni deboli che stiamo vivendo abbiamo fatto è che non c'è mai un modello unico di niente non esiste un modello unico di aggregazione privata pubblica eccetera e non esiste neanche un modello unico di convegno quindi certamente quello che tu dici è stimolante e importante però credo che l'occasione di ascoltare delle persone che dicono cose interessanti sia uno dei modi più tradizionali ma certamente non da buttare via delle nostre tradizioni di co-costruzione della conoscenza come dice Morelli sta a noi nell'ipotesi che il modello sia questo utilizzare lo spazio che ciascuno di noi nelle proprie comunità nei propri luoghi di lavoro e di studio ha per utilizzare il feedback quindi vabbè ma questa è un'opinione personale la cosa importante invece che volevo dirvi è un'impressione una paura che ho che mettono insieme in maniera contrapposta il contributo di Sivi Agrari e quello di Fabio Salviato che io ho visto veramente come due contributi involontariamente implicitamente posti su fronti totalmente differenti Silvia Agrari ci ha ricordato con altre parole uno che un paradigma chiave della pedagogia e cioè che quando si fa un lavoro formativo di educazione si deve sempre tenere presente i tre livelli teoretico empirico e pratico ciascuno può eccellere in uno dei tre ma se non tiene conto degli altri due cioè della domanda di senso il livello teoretico che ha quello che facciamo e la ricerca il livello empirico lo stare solo sul pratico è pericoloso perché soprattutto quando funziona bene ci dà l'illusione di una autogratificazione che poi rischia di diventare autoreferenzialità allora io a contatto da non molti anni ma con grande passione e interesse per me è stata una scoperta col mondo del terzo settore col mondo dell'educazione professionale visto che sono un docente del corso e mi piace molto esserlo noto che c'è una specie di equivoco sempre legato a due parole chiave una delle quali in questa comunità viene molto usata e l'altra sembra quasi completamente esclusa la parola usata è appunto la parola comunità la parola esclusa è la parola società la parola comunità ha dei presupposti affettivi etici di vicinanza di come dire di di autodeterminazione nella scelta di partecipare il concetto di società invece come sappiamo bene è legato al contratto sociale è legato alle leggi è legato alla politica io ho l'impressione che la passione per la comunità e la passione per questo afflato etico collaborativo mi direbbe da dire anche estetico perché comporta per chi partecipa a questo una gratificazione di carattere affettivo che è qualcosa di bello che viene vissuto come bello faccia sentire come controparte ciò che invece è appunto contratto sociale politica eccetera il discorso che Fabio Salvato ha fatto sulla banca etica che è una cosa personalmente che mi appassiona da quando l'ho scoperta leggendo le cose di Amartya Sen di molto tempo fa e le considerazioni che su questo ha fatto poi anche Martha Nussbaum e tutti gli altri io trovo che siano entusiasmanti da un lato ma senza la politica molto pericolose perché sono come tutte le cose che partono in termini di vocazione e di autopromozione partono sempre benissimo poi però se non c'è un controllo istituzionale che comporta votazioni controllo sociale quanto ci mette a degenerare una cosa del genere vorrei capire se lo sfondo etico che c'è dietro questo impegno bellissimo che si sente in questo convegno e che si è sentito nel convegno dell'altra volta è una riedizione di quella cosa che io come ultra sessantenne ricordo molto bene negli anni settanta che erano gli extra parlamentari di sinistra cioè l'illusione molto molto ripeto bella ma assolutamente illusoria che le buone qualità soggettive e le buone pratiche di una comunità possano sostituire un sistema democratico che con tutti i limiti e le crepe che dimostra di avere io continuo a pensare che sia irrinunciabile affinché non troviamo qualcosa di meglio grazie dall'Ari Martina Vitillo sono educatrice e lavoro in un consorzio di servizi sociali in provincia di Torino e io volevo fare un intervento legato a questo cioè che gli spunti che avete portato sono tutti molto importanti e tutti molto condivisi quello che su cui però noi educatori abbiamo una grossa chiamiamola difficoltà non ho il tempo di pensare un'altra parola è che noi come professionisti nel lavoro con le persone ci troviamo in situazione in una situazione lì concreta per carità elaboriamo un progetto facciamo tutta una serie di cose e via discorrendo però poi la situazione è quella di concreta e non è mai come era nel progetto le pratiche e le condizioni di vita la nostra società si evolve ho iniziato a fare educatrice nell'84 noi esploravamo in un modo completamente diverso da come noi esploriamo oggi io sono quando ho iniziato nell'84 andavo in giro nei quartieri a piedi e agganciavo i ragazzini oggi non lo posso più fare perché mi sparano devo fare un progetto devo fare tutta una serie di cose e via discorrendo dall'altra parte c'è il mondo universitario che riflette che dice che appunto non ci può essere soltanto una pratica ci deve essere anche una riflessione e molto spesso per troppo tempo questi due ambiti sono andati avanti in modo separato ecco io quello che vedo per tornare ai nostri temi di educatori nel nostro futuro è trovare un modo questa è la nostra sfida per rendere concrete le cose che voi dite cioè che le persone possano autopromuoversi anche le persone che seguiamo noi perché non abbiamo soltanto problema di autopromuoverci noi anche le persone che noi seguiamo possono diventare promotori allora io credo che questo si possa fare solo se si riesce a trovare un modo affinché la rielaborazione teorica e la riflessione sulle proprie pratiche possa trovare un contesto dove questo avviene e oggi questo contesto non esiste io lo vedo molto legato al sistema universitario che in questo momento ha però un rapporto con i servizi parlo in linea generale non in specifico di questa università ha un rapporto con i servizi esclusivamente legato al problema di mandare gli studenti in tirocinio mentre invece poco c'è lo scambio tra gli operatori dei servizi e servizi e le pratiche che vengono svolte anche innovative con invece il sistema universitario allora mi chiedo come questa cosa possa svilupparsi anche con quale tempo perché noi operatori dei servizi non abbiamo tempo e credo neanche l'università ma penso che questo sia un tema su cui fare grandi esplorazioni grazie dottoressa Vittillo di Torino Antonio dimmi quando mi devo fermare perché intanto io sono Davide Barban educatore professionale lavoro in una comunità terapeutica per tossicodipendenti e anche io ho un piccolo incarico di docenza come laboratorio della metodologia all'università di Udine mi ricollego a quello che diceva Martina nel senso è anche una esperienza mia personale nel senso che sono molto contento di questo convegno lo scorso mi è riscritto e non sono riuscito a venire e il fatto della ricerca io l'ho sempre visto sia dal punto di vista mio personale ma anche dei miei colleghi con cui mi confronto è una parte che è sempre mancata all'interno della nostra realtà parlo del Friuli Venezia Giulia Veneto e da quando ha iniziato ad emergere ci ha reso più comunità e anche molto stimolato in ambito lavorativo che invece a lungo andare tende un po' a incancrenire quella che è la pratica professionale a questo proposito mi ricollego alle esperienze appunto universitarie come correlatore di tesi e il fatto di farsi coinvolgere da questi progetti di tesi ricerca di validazione di strumenti e pratiche è sempre stato per tutti per lo studente docente e anche i colleghi di lavoro uno spunto di miglioramento della propria pratica professionale e di vita professionale e rispetto a questo ho riscontrato l'estrema rigidità del sistema universitario dove di fronte alla possibilità di collaborazioni a titolo gratuito tra università e enti dove basterebbe sancire un accordo nella mia testa invece viene sempre ostacolato da mille procedure burocratiche che poi fanno sì che queste collaborazioni parlo ad esempio per Udine non si siano mai verificate non so poi magari negli altri atenei è stato più facile questo è un peccato perché c'è una conoscenza una possibilità di evoluzione che invece viene purtroppo bloccata o comunque non nutrita Dario se c'è c'è spazio per un ultimo intervento e poi facciamo il giro del tavolo no? ok ricominciamo ritorniamo la palla ritorna qui io vi chiedo scusa ma dirò una cosa antipatica siamo finiti per parlare di etica e tutte le volte che questa parola viene tirata in ballo e che abbiamo conferenze in questo caso gli educatori ma i tributaristi non sarebbero diversi i sociologi gli antropologi nelle conferenze e le conferenze sono l'occasione per arieggiare dare aria ai valori e ai buoni sentimenti ci sono buone ragioni per far questo perché è la costruzione di un'identità professionale per cui non ci meravigliamo né non è questo il punto però vorrei darvi invece un'idea del che cosa significa un approccio basato sulla pratica all'etica cioè il fatto del lavorare con i professionisti nel chiuso diciamo della comunità dei professionisti sull'etica significa come i professionisti fanno etica in pratica quindi come si fa l'etica non come si parla dell'etica e allora quando sono i professionisti che hanno il tempo il modo la voglia la disponibilità di interrogarsi sul come fanno etica allora lì vengono fuori altri discorsi perché allora significa quanto le loro pratiche lavorative sono più etiche o meno etiche che cosa significa fare una certa attività in un modo che è più etico di un altro perché una viene giudicata meno etica e allora lì secondo me c'è un'altra comprensione io non io come insegnante non sono stata una buona insegnante non credo questo così come non credo perché non credo molto nell'educazione io non credo che si possa insegnare io non credo che si possa insegnare etica non si insegna l'etica come si insegna la matematica questo però non lo so perché siete voi educationalisti io sapete sono un organizzativista e quindi ho un altro un altro tipo di 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 approccio ecco io penso che i professionisti possano non parlare cioè che c'è il momento in cui si parla dell'etica le pratiche discorsive sull'etica e c'è il momento in cui però lo fanno nel loro nella loro comunità in cui si confrontano su come fanno etica perfetto Giulietta would you like to around I wanted to talk about the way that certain types of knowledge are privileged and I suppose I'm responding particularly to the points that Martina and Davide made that we sit here and we've spoken and we can talk about certain kinds of knowledge and I do think that there are many different ways of acquiring knowledge including sharing it in the way that we have today but clearly the knowledge of researchers of educators is not actually superior to other people's knowledge it's just a certain form of knowledge and where I work in the university I work some people are engaged in what they call practice near research so they're working closely with people in practice in order to try and make sense of practice with people sometimes we've run action learning sets for practitioners to look at their own learning from experience and research their own workplaces and their own practices and also we sometimes you know it's also possible to work with service users themselves to generate knowledge from that perspective and I'm coming from a place where I think we need to respect all those different kinds of knowledges and try and have a big enough view that will allow us to communicate across those boundaries because we're always looking at things from our own perspective and it's very difficult to take up someone else's perspective and I think we have to acknowledge that and acknowledge our limitations but respect the other knowledges that people have a commento a quello che diceva Marco che non vuole essere indubbiamente una risposta ma sostanzialmente un contributo nel mio intervento non ho solamente sfiorato e non ho per nulla descritto la banca etica che la considero uno strumento ma ho cercato di mettere più in rilievo i bisogni espressi dalla comunità e quindi gli strumenti che devono essere messi a disposizione tra i quali banca etica ma ce ne sarebbero decine d'altri per quanto riguarda la società quindi corretta la sua domanda comunità e società su questo sono d'accordo cioè il fatto che per quanto riguarda la società ci sono questioni più complesse che riguardano la governance che riguardano la questione della politica che non ho toccato ci vorrebbe un altro seminario per questo e sono perfettamente d'accordo è evidente che rispetto a una comunità che esprime questo tipo di bisogni la società all'interno del quale noi ci troviamo nell'aspetto specifico di chi fa politica fortunatamente ci troviamo a Trento dove secondo me c'è un adesso do un parere assolutamente personale c'è una sensibilità buona forte dopo uno può darla comunque c'è una certa sensibilità non a caso il convegno lo facciamo qui a Trento questo tipo di convegno questo tipo di iniziativa anche da parte delle istituzioni faccio una considerazione io come presidente della federazione europea quando vado in Europa e si esprimono i bisogni appunto delle comunità la parte i rappresentanti politici a livello europeo a qualsiasi sia lo schieramento destra centro sinistra tanto per essere chiari dimostrano una certa conoscenza competenza e capacità per tentare di risolvere questo devo ammettere che purtroppo questo in Italia ancora non c'è quindi bisogna lavorare bisognerebbe lavorare molto su questo perché evidentemente se si portano avanti degli strumenti e poi questi strumenti non sono adeguatamente supportati anche da una politica da questo punto di vista posso concordare che si potrebbero creare delle situazioni di crisi ma ecco io nell'intervento non ho voluto volutamente non ho voluto prendere in considerazione questi due aspetti perché se no la discussione ci porterebbe molto lontano sicuramente servirebbe per esempio in Francia c'è una una scuola di alta formazione per appunto gli amministratori pubblici cosa che servirebbe assolutamente anche in Italia il relatore successivo a mio ha messo in evidenza la questione della corruzione 70 di quei 120 miliardi sono in Italia solo per capirci quanto lavoro bisognerebbe fare volessissimamente alla collega che la pratica reale è sempre diversa dalla mappa progettuale scusate e sì purtroppo credo che questa è la norma e non l'eccezione proprio per questo io che credo nell'educazione e nella formazione secondo me l'università è efficace quando e solo quando forma delle persone che hanno una bussola che sia giusta man mano e camminano nella realtà non che se a pagina 37 non corrisponde alla realtà vanno in pan sono anche molto convinto essendo anch'io nell'ambito universitario in vari paesi che l'educazione funziona o non funziona e questo non dipende dall'educazione ma dagli educatori un'educazione non efficace non funziona un'educazione efficace funziona tra le tante ricerche che ci sono sembra che un'educazione centrata sugli apprendisti cioè student center education le ricerche mostrano che funziona e spesso anche meglio della tradizionale io credo per era molto interessante non so se ho capito bene cioè quello che è pericoloso vedere nella banca etica una dimensione che dimentica la società io ho la pericolosità di essere nella comunità e dimenticarsi della società però siccome si parlava di banca etica io voglio dire che mi sembra proprio un esempio eclatante di efficace comprensione di come è costruita la poliz e mi sembra estremamente pericoloso e autocastrante che un cittadino di qualsiasi appartenenza deleghi esclusivamente il bene pubblico a quelli che elegge io credo che è importantissimo che il cittadino è consapevole del proprio potere e che quindi certo che è attivo nella promozione di legge di good governance di buon governo ma soprattutto è cosciente delle proprie capacità e insieme agli altri si organizza e fa delle cose anche per il piacere di saperlo non solo perché siamo in emergenza ma essere dativi donare è un piacere ed è una cosa naturale per gli esseri umani non è che dobbiamo delegare tutto questo sì la passivizzazione nel campo sanitario nel campo sociale diventare praticamente castrati che siamo cittadini che se il governo non ci pensa è un governo ladro ma piove e che si deve rassegnare io credo che l'empowerment non può venire dall'altro ma può venire da ognuno di noi e comunque in tutto quello che ho sentito a mio modesto parere scientificamente è dimostrato che ci sono nelle ambiti della per esempio grossa divisione il mio campo è quello della psicologia e della psicoterapia c'è purtroppo anche lì una grande gap tra ricercatori e clinici e ma questa è colpa delle università perché chi l'ha detto che si deve o specializzare uno nella pratica clinica o nella pratica di ricercatore questa è una pazzia non è che le cose nascono nel vuoto o vengono da parte basta insegnare ai propri allievi di fare ricerca e pratica e anche modesto suggerimento insegnare l'etica e gli ordini professionali e le associazioni professionali basta avere un workshop di discussione di casi etici e di buone pratiche e far vedere come si disegna e gestisce un setting professionale alla luce dei valori dell'etica non mi sembra tanto difficile sinceramente mi sembra che le soluzioni sono facili ma purtroppo sono facili solo per chi può vedere e su questa nota chiudiamo questa sessione ringraziando i relatori e le relatrici e ringraziando voi per la pazienza e per la partecipazione e do la parola a Dario per gli ultimi accorgimenti a Dario